Grazie a tutti. Sono comunque passati pure cinque anni, le sensazioni sono molto diverse. Oggi vengo a fare una partita, sono un paio di anni che non faccio tornei, quindi tranquilla. Dopo che sei stato campione italiano hai avuto esperienze svariate in mondiali europei. Quali sono stati i tuoi risultati? Allora, gli europei non sono mai andato molto bene, entrambi gli anni che ho partecipato. Invece ai mondiali comunque mi sono comportato sempre abbastanza bene, sono arrivato una volta quinto nel 2008. Che aspettative hai rispetto a questo tipo di organizzazione che stai vedendo in questo momento? Che magari è la prima volta che partecipa a Latina? Sì, la prima volta che partecipa a Latina è sinceramente era un po' di tempo che non vedevo un torneo organizzato in maniera così decente, quindi sensazioni positive. Allora in bocca al lupo per il torneo. Grazie, crepi. Grazie. 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 Grazie.